san simplicio nato a tivoli figlio di un certo castino fu eletto papa il 3 marzo 468 è il 47esimo pontefice della chiesa governò la chiesa in un periodo molto agitato sia per l'impero d'occidente sia per la chiesa d'oriente a roma edificò vari luoghi di culto come la chiesa di san stefano rotondo la basilica di santa bibiana e la chiesa di sant'andrea da papa tentò di difendere la dottrina ortodossa dal monofisismo l'eresia che non riconosce in gesù le due nature di uomo e di dio malgrado gli sforzi non riuscì mai ad esercitare una reale influenza sulla politica religiosa delle chiese orientali né su quella imperiale morì il 10 marzo 483 e venne sepolto a san pietro